Ben ritrovati nella nostra trasmissione, oramai diventata punto di riferimento per tutti quelli che vogliono segnalare, protestare, fare qualche segno di allarme per una situazione che può degenerare. In questo caso siamo andati in Casentino, siamo andati a Chitignano, vediamo perché. Per Sportello Reclami oggi ci troviamo a Chitignano e siamo arrivati a trovare la signora Giovanna Borrello perché abbiamo una necessità e la necessità è legata al fatto di avere un mezzo comodo, in questo caso con orari comodi, che permetta proprio il raggiungimento facilmente di Rassina direttamente da Chitignano e poi naturalmente una volta arrivati a Rassina anche gli altri paesi del nostro compensorio casentinese e anche naturalmente per raggiungere la città. Signora Giovanna, qual è il problema? Il problema è che ce l'hanno tolta qui da noi perché c'era prima, non la Corriera, al mercoledì e al giovedì. A parte che d'estate c'è sempre perché ci sono questi veleggianti, bene, è una cosa bellissima e c'è tutti i giorni. Faceva l'orario dalle, quella delle, mi sembra, delle sette e mezza e poi veniva qui alle dieci, dieci e un quarto e poi ripartiva e andava di nuovo a Rassina e poi ritornava l'una. Ci hanno tolto quella delle dieci e mezza e sarebbe una comoda perché adesso fa freddo e prendere quella delle sette e mezza e poi stare tutta la mattina fuori perché si dovrebbe stare dalle sette e mezza alle tredici e fuori. Fa freddo, si comincia a far freddo, da cosa si fa? Noi donnino, oppure c'è anche un signore che non riesce a camminare col bastone, poverino, lui fa tutti i mercati, però adesso da quando c'è questo fatto che non c'è più la Corriera non le può più fare e non mi sembra giusto perché va a comprare, va a svariarsi, si deve anche un pochettino svariare un po', tutta la settimana è sempre in casa, deve andare un po' con gli altri, parlare con le altre persone, invece non lo può più fare. Tanti devono andare anche dal medico giù, tanti devono andare all'USD a Bibiena e c'era questa Corriera delle dieci e un quarto, si fermava proprio lì e poi stavano lì fino a un'ora così, due ore al massimo, ma non quattro ore tutta la mattina, cosa fare? E mi sembra cattivo, è cattivo anche perché dicono che non abbiamo i soldi e i soldi, prima di tutto che dovrebbero mettere una corrierina piccola, quella da dieci posti, credo che ci sia, quella da dieci posti e fare pagare semmai un euro in più di biglietto, io penso che tutti in ora si pagherebbero, però che non la togliessero, perché è una cosa veramente cattiva e senza buonsenso. Vorrei ricordare che naturalmente la signora non parla soltanto per sé, ma avete capito che sono più persone, che non sono giovanissime, diciamo così, che si devono spostare in questo caso con un mezzo pubblico, è giusto? Certo, devono chiedere alle amiche, tante volte le amiche giustamente non possono sempre scontentarci, oppure hanno delle altre cose da fare e bisogna sempre chiedere a tutto, fermarsi lì e vedere se qualcuno ci porta, fare l'autostop, non credo che sia bello a quest'età, insomma a 78 anni non mi sembra, quando si è giovane si può fare, ma a quest'età non si può più fare una cosa del genere. Consideriamo una cosa, che naturalmente loro non è che userebbero saltuariamente, ogni settimana loro, minimo due volte alla settimana loro si trasferiscono. Sì, due volte alla settimana c'era questo servizio. Io avevo telefonato a quelli di Arezzo, c'era una società di Arezzo, e loro avevano detto di andare in comune, perché è solo il comune che si deve interessare. Voi avete fatto la vostra richiesta al comune? Io sono andata più di una volta dal sindaco, ma non l'ho mai trovato, si vede che è un periodo che si nasconde. Noi ci proviamo allora con sportelli e richiami, insieme alla signora Giovanna Borello qui da Chitignano, rigiriamo anche la richiesta al comune di Chitignano di interessarsi perché per due giorni alla settimana, nei giorni che c'è il mercato a Rassina e a Bibbiena, si è rimesso in pratica e in funzione il servizio alle ore 10 circa del mattino. Questo per consentire alle persone anziane che non possono rimanere fuori casa, specialmente nel periodo invernale, quasi 5 ore, di poter usufruire di questo momento anche di socializzazione, ma anche momento di acquisto e in questo caso ritorna anche un giro dell'economia. E anche che adesso ci vuole, bisogna guardare tutto, bisogna spendere meno che si può. Se poi si metterà, noi ringraziamo. Certo, per carità, anzi ringraziamo tanto, ringraziamo già. Stefanella Baglioni e Fabrizio Radicchi sono stati per noi in Casentino a Chitignano, avete visto di cosa si tratta, ne riparliamo tra un attimo. Quindi grande preoccupazione per la cancellazione di un servizio importante, quello degli autobus, quello delle corriere che in Casentino servono naturalmente a collegare tante piccole frazioni, tante piccole situazioni al fondo valle per dare quindi servizi ai cittadini. Stefanella Baglioni e Fabrizio Radicchi oggi da Chitignano hanno raccolto le preoccupazioni dei cittadini che vedono diminuire il servizio degli autobus e delle corriere in quella zona. Speriamo che il nostro servizio sia servito, che in ogni caso questi servizi vengano mantenuti, servizi di pullman vengano mantenuti. Grazie ancora per l'attenzione, continuate a segnalarci le vostre preoccupazioni, mettetele alla nostra attenzione a sportelloreclami chiocciolateletruria.it. Grazie e buona serata. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà in Italia. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.